salvi amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale i filmati di oggi sono spaventosi ma allo stesso tempo anche molto interessanti prima di cominciare però voglio ricordarti di iscriverti al canale cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo il primo filmato è stato realizzato da un esploratore urbano recatosi in un deposito di mezzi da trasporto l'esploratore fa una panoramica del luogo riprendendo i vari mezzi ormai fermi lì da un bel po di tempo finito di fare la sua perlustrazione decide di fare un'ultima inquadratura e proprio a questo punto nota in mezzo ad alcuni mezzi quella che sembra essere un'ombra completamente nera eccola miro 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 ti ha encendido eh che hanno encendido le luci del bus si han encendido le luci del bus i sarà abierta la porta non sai sta encendida la luci del bus Miren bichos Miren bichos Miren bichos Miren bichos Miren se no hay nadie adentro Miren se no hay nadie adentro Ah no mami Ay Dios mío No mami Miren Aquí está el cuerpo Una telecamera di sicurezza di un supermercato Cattura una strana creatura Che sembra attenti di nascondersi Sotto lo scaffale del supermercato Anche avvicinando le immagini È difficile capire che tipo di creatura sia Forse qualche essere sopranaturale Venuto da un altro monto O da qualche altra dimensione Chi lo sa Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti Un cacciatore di fantasmi Si reca in un bosco in Messico Per condurre un'indagine paranormale Inoltratosi nel bosco Ad un certo punto Nota una strana creatura Sbucare fuori da una buca A quel punto tenta di avvicinarsi Ma la creatura Sembra che non abbia buone intenzioni Ciò che viene ripreso è davvero impressionante Questo è ciò che è stato filmato Amiguito Quiero aiutarti Quiero aiutarti Te voy a entregar questa manzana Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Miren, miren, miren Ma la quantità Ahi sta il duende Amiguito Quiero aiutarti Te vrei a entregar Esta manzana Ven conmigo, ven conmigo Il video seguente è stato realizzato Da una famiglia che abita ormai da anni In una casa vicina ad un bosco La famiglia racconta che una sera Hanno incominciato a sentire degli strani lamenti Provenire al di fuori di casa loro Non sapendo cosa potesse provocare Quei lamenti, spengono tutte le luci Per evitare di attirare ospiti Non graditi Dopo aver spento tutte le luci, sbirciano da una finestra Per vedere se ci fosse qualcuno fuori Ed è proprio a questo punto che Notano qualcosa di veramente spaventoso Questo è ciò che è stato ripreso I'm just gonna see Hold on Stay away from the windows What is What the fuck is that I'm just gonna see Hold on Stay away from the windows What is this What the fuck is that L'ultimo filmato è stato ripreso dal proprietario di questa vecchia casa Costretto a venderla perché è infestata da degli spiriti maligni Il vecchio proprietario, prima di lasciare la propria casa Decide di entrarci dentro E riprendere alcune stanze con il suo smartphone Una volta entrato Si incominciano ad udire delle strani voci But No se ve ni madre Sabe que chinga sera No se que pedo Dan la verga Puta madre Sì 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 Si Sì Ma che E' quando L'agrazione che Bajiamo Va a Sì 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 che vuole siamo arrivati al termine ragazzi il video finisce qui fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi filmati io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima ciao ciao